Anticipazioni Beautiful, lunedì 10 maggio 2021. Hope nota che Douglas è terrorizzato al sol pensiero che Thomas possa rifarsi una vita con Zoe che proprio in quel momento passa a prendere il bambino per una pizza. La giovane Logan si oppone. Lo stilista così, per distendere gli animi, organizza una cena e dice che dovranno essere tutti presenti, Steffi e Liam compresi. Il giorno seguente tutti sono a Villa Forrester per il grande evento. Mentre Brooke è scettica, Ridge è orgoglioso del figlio. Steffi guarda il fratello incredulo, convincendosi che sia davvero innamorato, mentre Liam resta perplesso, soprattutto perché nota Douglas a disagio. La Buckingham cerca di mostrarsi carina e cordiale con i Forrester, ma Brooke, infastidita, non esita a metterla in guardia. Si sta cacciando in un mare di guai con Thomas e alla fine di questa grande recita soffrirà. Ridge interviene per fermare la moglie e pregarla di smetterla di inveire contro una povera ragazza. Thomas risponde che dimostrerà a tutti quanto i suoi sentimenti siano veri e bacia la sua nata, badando di essere visto da Hop. Grazie a tutti.